Il primo tempo abbiamo giocato male, perciò non mi nascondo e dico la verità. Abbiamo giocato male, i giocatori sono solo in faccia, non era facile, perciò abbiamo sbagliato moltissimo, abbiamo giocato male. In fase difensiva loro non avendo riferimenti in avanti venivano tutti a raccordare, a giocare in mezzo al campo e ci hanno fatto un gran possesso, perché avevano tanti giocatori, Macin, Galano, Memusciai venivano ad aiutare i centrocampisti e perciò noi eravamo in inferiorità. O li seguivamo con i tre di dietro, ma tante volte era difficile e hanno palleggiato, però diciamo che tiri in porta hanno fatti pochi. Secondo tempo abbiamo giocato meglio, credo che questa squadra difendendo in questo modo ha i suoi vantaggi, vedendo anche le partite, quanti tiri ci fanno e quanti gol si prendono. Cosa dobbiamo fare meglio è quando abbiamo la palla, dove dobbiamo essere più lucidi, dobbiamo fare scelte migliori, dobbiamo avere più personalità nel proporci e per più minuti possibile. Neanche la Juve fa 90 minuti di possesso, di grande calcio, ma neanche 5, perciò noi dovremmo fare qualcosa di più. Secondo tempo l'abbiamo fatta, infatti abbiamo avuto le nostre occasioni, anche in contropiede, qualcuna fatta a Benino, però diciamo che il secondo tempo è stato abbastanza buono, il primo male, però non ci hanno mai tirato. No, ma io sono contentissimo per la classifica, per i risultati adesso, adesso sono contento. Quando attacchi tre vittorie ti tiri un pochino su, sono contento per tutti, perché è giusto così. Abbiamo lavorato bene per me, con umiltà, anche quando abbiamo preso le bastonate, siamo stati umili, abbiamo fatto poche sceneggiate, ci siamo messi a lavorare, noi con i ragazzi, la società è stata lucida anche nel momento brutto. Tutti hanno messo un pizzico di qualcosa per creare comunque una situazione, è un risultato decente fino adesso. Non siamo nei primi, ne abbiamo staccato nessuno, non abbiamo fatto niente, però adesso inizia a essere interessante la situazione. Nel secondo tempo abbiamo cercato di riproporre un po' quello del primo, ma entrambe le cose, è qualcosa in a meno noi, sicuramente la forza di fusione che conosciamo, che conosciamo un po' tutti, ha dei giocatori che possono in qualsiasi momento cambiare il volto alla partita, basti vedere i cambi, per cui un po' entrambe le cose. Però chiaro, volevamo far male con gli inserimenti degli esterni e a turno dei tre davanti, ci siamo riusciti in parte con degli inserimenti, con degli intervizi magari poco precisi, ma chiaramente conclusioni zero. No, credo che sia quello che ho visto anche nelle ultime settimane, ovvero di una squadra che appena può si chiude, nel senso che si abbassa molto una promessa a campo, sfruttando qualche ripartenza, qualche situazione per sbloccare la partita, un po' come è successo oggi.